Vieni qua, tu sei stato, non ti far inseguire, tu sei stato, tu sei stato, tu sei stato, tutta sua è, e c'è tu mangi fratto me, che cosa ti mangi? Sovia Nicolai, partecipa anche tu a Scanza la Cacca. Questa io la definisco la strada della cacca. Noi l'abbiamo definito il quadrilatero degli stronzi, perché ce ne sono tanti e perché in tanti fanno fare ai propri cani i bisogni sulla strada. La definizione è più corretta, potremmo definirla meglio. Di chi è secondo lei quella? Del padrone. Del padrone, no? Lo stronzo è lui. Attento alla cacca. Allora, su Via Nicolai bisogna camminare con lo sguardo basso, però attento al palo. Potrebbero fare a meno del cane, so. Addirittura, lei è così drastico, facciamo a meno del cane. Allora, dimostriamo come si Scanza la Cacca col passeggino. Andiamo, andiamo. La signora ci aiuterà a giocare a Scanza la Cacca. Eccolo qua. Attenta signora. Vira, vira, vira a sinistra, vira a sinistra. Tutto a sinistra. Attenta, attenta, attenta. Un po' a destra, centro, centro. Vai, 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 vai. Bravissima, bravissima. Perché c'è quello fresco e quello consolidato ormai. Vada, vada, vada. Signora, il peggio è passato. E non puoi venire tu con una scopa, una palette. Io non ho il cagnolino. No, pulire tu, quel degli altri. Quando si secca la viene a pulire. No, la devono fare quel che sporcano. Io a casa mia, io sporco e io pulisco. Ma lei non è che la fa pure lei a casa? A casa sua come la fa lei la Cacca? Normale. Dove la fa? Doce. Giochi con noi a scansa la Cacca. Attento, attento, attento. Attento, vada per strada. Attento, attento. Fa schifo. Cioè, sei proprio decisa. Fa schifo. Via Dante, vieni con lei. Le mani fanno schifo, prendi i cacchi e i pipì. Il tuo qua, come fa? La Dunc. Prego? La raccolgo. La Dunc, va bene. Va bene, la Dunc. Come si chiama? Luna. Luna? No, io dicevo lei. Io? Secondo lei, quella roba là di chi è? Va di fretta in bagno, deve andare. Vigili, vicino a Via Dante, che lo schifo è assai. E non passano. E fanno le multe ogni tanto. Sono a due, sono le mani fatti. Si devono, si devono, si devono, a pianta stabile. Che le cristiane, sono una biglia paura, non è niente. Eh. Non che io, io, in un lavario della lavatrice, che scarico la lavatrice, per poi se ho macchiato i piedi, io sono rischietto pur da avere la multa, perché io ho qui i macchiato i piedi. E non è giusto. Eh no. Perché ve l'hanno detto a me, non buttare l'acqua, che hai la multa. Come io gli ho la pipì, io gli ho pure la multa. È la merda che sta qui vicino. Non si può camminare più. Non si può camminare più. E non sai come la pila che hai da tutto. Eh, e metti che scivoli. Metti che scivoli, te ne vado a sperare. Metti che non scanzi la cacca e scivoli sulla cacca. Spazzate la gamba, va, eh. E ci paga. E ci paga, ci paga. Ci ha spito comunque la paga. Eh, la domanda però è quella. Dimmi. Paga il padrone o paga il comune che non ha pulito? Il comune non pulisce niente. Quasi mai. Mai. Ma il comune, mezzo gaudio. Bravo, bravo. Vabbè, ti auguro una giornata di merda. Io sto scaricando, devo stare attento, mi metto i piedi, capito? Ed è normale. Non è normale. Senti, vabbè, ti auguro una giornata di merda, eh. Grazie a te. Grazie.